Donare non è solo un gesto di solidarietà, donare deve essere una scelta consapevole. Ma ricorda che per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma, la tua. E io oggi sono qui per ricordarti l'importanza di dichiarare in vita la tua volontà di donare organi e tessuti. Guarda che è più facile di quanto pensi, ci sono ben 5 modi. Lo puoi fare dal tuo metodo di base, puoi anche scrivere un documento in cui esprimi la tua volontà di farlo. Lo puoi fare pure quando vai a rinnovare la tua carta d'identità. Se lo vuoi fare, fallo. Io l'ho già fatto.